Bella a tutti ragazzi, sono Orgasmic, molto raffreddato quindi se sentirete un po' la voce nasale è per questo motivo Quindi sono con un nuovo episodio della Zard Road to Chelsea Come potete vedere da queste immagini ho comprato il terzio sinistro che ci mancava Era l'unico giocatore che non era del Chelsea nella nostra squadra Cioè Aspiliquetta, che è comunque un ottimo giocatore, l'ho trovato a poco ed è la versione upgrade 81 Quindi la nostra squadra è al completo, nel senso che abbiamo tutti i giocatori del Chelsea Ora aspetta a noi, tra questo e il futuro episodio, migliorare la squadra Il primo avversario che incontro è questo tizio che ha una squadra completa di intese E soprattutto un attacco devastante con il Kabir, ma soprattutto Robin e Depay Però comunque sia, parto abbastanza bene con Salah che mette in mezzo per Brown Che riesce a rendere felice e fiero suo padre William per il gol dello 0-1 Poi qui Schwarzer ci mette un po' del suo Su questo calcio di punizione vedete che Imbranato non l'ha presa come un deficiente E il mio avversario pareggia con Depay Poi in un contropiede Hazard mette il turbo Più o meno spiazza il portiere con un tiro di sinistro angolato E si va sul 2-1 Poi succede qualcosa di strano Cioè il mio avversario, vabbè, parte con Robin Che è impossibile fermarlo con giocatori bronzo, si può dire Fa gol, ok Ma mentre, dopo che ha fatto gol Come potete vedere, metti in pausa E io riprendo lui Quitta Cioè, è una cosa impossibile Questo qui ha raggiunto il pareggio e Quitta Vabbè, succedono solo a me queste cose Tralasciamo E in ogni caso non mi ha dato nessuna vittoria Nessuna sconfitta, nessun pareggio Quindi non mi ha neanche contato la partita In pratica è come se avessi sprecato forma fisica, eccetera, eccetera Comunque, nuovo giocatore, nuovo acquisto Didier Drogba Per far riposare anche un po' Brown Che sta giocando tantissimo E sta facendo comunque sempre tanti gol Però Drogba ci vuole Un giocatore importante Per completare comunque un attacco veramente fortissimo Questo tridente è veramente spettacolare E cerco ovviamente una nuova partita È una fatica parlare con un naso così chiuso Però vabbè, in questi giorni è così Comunque, il prossimo avversario che incontro Ha una squadra parecchio, boh, di merda Perché ha, sì, ha due, tre buoni giocatori Però per il resto sono tutti bronzo senza intesa Quindi dovrebbe essere anche abbastanza facile Primo pallone giocabile da Drogba Drogba Sempre lui, meravigliosamente lui E dopo questo meraviglioso intermezzo Del grande Marianella Riprendiamo con la doppietta di Drogba Che con un lag riesce a saltare 35 avversari E con un tocchettino a spiazzare il portiere 2-0 per noi E poi Dulcis in fundo Salah salta tipo 75 avversari Con i suoi dribbling E poi beffa il portiere con un tiro Che gli passa forse anche sotto le gambe 3-0 per noi Partita facile Comunque l'avversario non era un gran che Quindi sono crediti facili Vittoria facile Comunque come potete vedere dai dati È stata una partita dominata Poi compro Corzuma Che non l'avevo trovato nello scorso episodio Sono andato a cercarlo in questo E l'ho trovato sul mercato L'ho pagato tanto Però comunque sì Li vale tutti Perché è veramente un difensore formidabile Quindi ci saluta Christensen Il difensore bronzo E andiamo a cercare la terza e ultima partita dell'episodio Trovando Comunque devo cambiare i due centrocampisti Perché sono bronzo e non mi piacciono Trovando questo avversario Che anche esso ha un'intesa non altissima Giocatori non fortissimi Ha qualche buon difensore Però per il resto nulla Quindi Hazard Fa la sua classica azione Finta rientra in aria Tira all'incrociare Diciamo all'angolino basso E fa il gol dell'1-0 Intanto tira una ginocchiata al difensore Poi recupero palla centro campo Drogba con un tiro al volo Riesce a spiazzare il portiere con un gran gol Quindi partita praticamente già chiusa al 45esimo Se non che con un errore difensivo Qui dovevo spazzare L'avversario anche con un po' di fortuna Riesce a trovare il gol del 2-1 Per riaprire un po' la gara Però alla fine Con un contropiede nel secondo tempo Salah prima trattenuto Poi scalciato Gli hanno anche sparato Viene buttato giù Quindi calcio di rigore E Hazard ovviamente non può fallire dal dischetto Perché è veramente un cecchino da quella posizione E anche Hazard riesce a fare la sua doppietta In questo episodio Poi comunque la partita non finisce Baker riesce a trovare ancora Hazard Che si è rinfilato E trova la tripletta per lui Come cazzo si chiama? Hazard che ha fatto appunto 3 gol Quindi è un giocatore fenomenale Ragazzi è veramente pazzesco Da provare assolutamente Raga l'episodio finisce qui Come sempre io vi invito a lasciare un bel mi piace Ma soprattutto io vi invito a scrivermi nei commenti Quali sono secondo voi i giocatori Che dal prossimo episodio dovrei acquistare Per completare la rosa Per migliorarla ulteriormente Pensavo di fare qualche cambio Soprattutto a centro campo Perché c'è Loftus Chick Il cugino di Johnny Creek E Baker il panettiere Che ultimamente non mi stanno piacendo molto Ovviamente alzandosi il livello degli avversari Si sente un po' la loro bronzità E quindi appunto iscrittevi al canale Pagina Facebook, Twitter, Instagram Come sempre tutti i link li trovate in descrizione Noi ci vediamo al prossimo video Bella raga Ciao Grazie a tutti.